Adoro Te, fonte della vita, i miei calzari leverò su questo santo suono, alla presenza Il tuo ambito strego Buona Pasqua della settimana carissime amiche e amici di Abitale le scritture e di Misericordia televisione. Ancora volta il nostro incontro settimanale per l'Arezio ci vede in questo giorno del Signore a commentare e ad approfondire il testo biblico. Il Vangelo è veramente un dono continuo che la Chiesa ci offre e noi dovremmo sempre fare memoria di quel consiglio che Gesù diede a Pietro quanto nel capitolo 5 del libro di Luca, del Vangelo di Luca, dopo quella famosa catechesi che ha fatto, salendo sulla barca di Simone, gli dice vai nel profondo, prendi il largo, c'è quella bella espressione duk in altum, che spesso è diventato un motto per qualche vescovo. In realtà il testo greco è Pananghe, dice vai nel profondo, approfondisci, lascia che lo spirito davvero possa entrare nel tuo cuore e nella tua mente e lui che è l'autore delle scritture possa anche spiegartene. È davvero il tentativo che facciamo ogni volta noi ogni domenica. Quindi vieni Spirito Santo, tu che sei davvero l'artefice di ogni cosa, senza di te noi non potremmo far nulla. Oggi, cari amiche e cari amici, siamo arrivati in un famoso capitolo di Matteo, spesso citatissimo perché davvero è un testo meraviglioso. È il testo del capitolo 23 sugli scrivi ai farisei. Guai a voi, il Vangelo che prende le mosse dalla presenza di Gesù a Gerusalemme. Abbiamo visto in queste ultime settimane come Gesù abbia avuto molte discussioni, sia stato provocato dai capi degli anziani, i sommi sacerdoti. Non abbiamo meditato quella dei sadducei, ma l'abbiamo vista domenica scorsa, ve l'ho citata, quando i farisei vengono a sapere che Gesù aveva ridotto al silenzio un caso giuridico avuto dai sadducei. Una donna che sposa sette mariti, chi avrà come marito nell'altra vita? Ma i sadducei non credono assolutamente nella vita eterna e Gesù ha fatto l'esegesi prendendo proprio il Pentateuco. Il nostro Dio è il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, è il Dio dei viventi, non dei morti. E domenica scorsa quella bellissima espressione che tutti i due comandamenti sono come due cardini a cui sono appesi la legge e i profeti. E oggi abbiamo ancora una volta il maestro, lo vediamo con risposte sapienti, argomentato in queste settimane mettendo a tacere i suoi avversari, a tal punto che Matteo ha questa espressione molto bella nel capitolo 22 al versetto 46, nessuno poteva rispondergli qualcosa, ne osò più da quel giorno interrogarlo. L'opera educativa di Gesù, la sua risposta serena, calma ma profonda, ha messo a tacere e quindi siamo davvero davanti a una svolta. Non dimenticate che proprio domenica scorsa era stato mandato a Gesù un nomikos, un biblista dell'epoca, cioè un uomo esperto nelle scritture e Gesù gli aveva risposto bene. Ora in questo capitolo 23 che oggi la Chiesa ci fa proclamare, l'Evangelista Matteo raccoglie un discorso che è estremamente provocatorio ma anche catechetico perché vuole presentare un modo di atteggiarsi degli stili di vita negativi da non imitare assolutamente. Perché il testo è diventato famoso? Perché usa i famosi sette guai. Sette è il numero della totalità. Sette guai, guai, guai. Pronunciati dal figlio dell'uomo e questi guai rendono molto forte le parole dette contro gli ipocriti, quelli che si mettono la maschera. Gli ipocrites è chi nasconde il volto con una maschera, chi appare non chi è. E sono parole davvero sferzante. Notate che Gesù in questa occasione veramente si pone sulla scia dei profeti, dei grandi profeti che hanno sempre denunciato atteggiamenti religiosi, politici, di ipocrisia, di dominio, di possesso. Gesù davvero porta a compimento la profezia, porta a compimento le scritture. È lui il vero interprete di tutte le scritture. E in ogni epoca noi abbiamo sempre visto dai profeti scrittori dell'ottava secolo avanti Cristo fino a Giovanni il Battista come i profeti abbiano avuto parole forti contro i sacerdoti attaccati al potere, al danaro, ai re, alle potenti gerarchie, tutte persone lontane dal popolo e quindi anche dal cuore di Dio. Anche qui troviamo parole simili. Le abbiamo già trovate anche in Gesù. Pensate come Gesù stigmatizzi la chiusura di alcune città. Guai a te Corazin, guai a te Bezaida. Città che si sono chiuse all'opera evangelizzatrice di Gesù. Guai a quelli che provano gli scandali, cioè che portano all'errore i piccoli, quelli che sono ancora deboli nella fede. Abbiamo visto nel capitolo 18 il famoso Vangelo della comunità, della Chiesa. Guai ai ricchi, ai sazi, a quelli che ridono, a quella gente che pensa soltanto a ricevere le lodi dagli altri. C'è gente che vive di apparenza in un mondo dove oggi i social, TikTok, Instagram, davvero notate gente che si autoesalta, si fanno fotografie in continuazione, si mettono in dei video per farsi notare e farsi vedere. È un'epoca davvero di grandi apparenze. È un testo che parla anche a noi, come sempre. Ma innanzitutto cerchiamo di chiarire che cosa significa la parola guai, perché spesso noi la intendiamo in modo negativo, cioè intendiamo questa parola come una maledizione. In realtà guai non è questo. Guai vuol dire attenzione, è un avviso, è un richiamo, se volete, forte, esigente, è un'esortazione a fare ritorno a Dio. Vedete, Gesù sta a cuore, soprattutto che le persone facciano ritorno a Dio. Offre una metanoia, un cambiamento di mentalità. Potremmo dire che sono anche dei consigli accolati, anche un po' severi, ma bisogna recuperare la via del bene. Ricordate, forse quando eravamo piccolini e si giocava con le macchinine o col trenino, quando andavano fuori pista, bisognava rimetterle in carreggiata. È un'immagine che può rendere quello che dovremmo fare noi. Dio ci rimette in cammino sulla giusta pia, sulla giusta via, quella via che è la via del bene, ma anche una via pia, come stavo dicendo prima, nel senso che risponde alle esigenze del Vangelo. Il testo di oggi sono appena 12 versetti, ma vi accorgete che sono divisi a metà, perché al versetto 8 Gesù dice, ma voi però, voi state attenti però, non imitate tutto quello che Gesù descrive nei primi sette versetti. Infatti in questa prima parte Gesù descrive, direi, davvero con delle linee molto precise, nitide, sembra delle pennellate davvero essenziali, ma molto forti, perché introduce questi modi di comportarsi di alcune guide religiose, che sono sbagliate. Poi introduce l'insegnamento rivolto ai discepoli e a noi oggi, per dire che da questi esempi negativi noi dobbiamo tenerci lontano, all'opposto. Notate però che Gesù non contesta l'autorità religiosa o la competenza, direi, scritturistica degli scribe e dei farisei. Sono i rappresentanti legittimi della tradizione ebraica. Ciò che Gesù mette in rilievo è che la loro vita non è espressione della loro fede. La formula di Matteo è «dicono, ma non fanno». E questa frase davvero è un cazzotto nello stomaco anche per noi. Guai a noi se diciamo e non viviamo. Gesù stigmatizza soprattutto tre grandi deficienze dell'autorità religiosa. Innanzitutto l'incoerenza di vita, l'oppressione legalistica e la terza l'ostentazione vanagaloriosa. Di cui ha parlato qualche giorno fa anche Papa Francesco, quando rimprovera a preti e a di andare in sartoria soltanto per farsi bei vestiti di pizzo e per pensare all'apparenza. Diventa un'ostentazione di un vestito invece che dovrebbe essere l'abito della dignità del servizio che ci è affidato. Ma andiamo con ordine e guardiamo. Perché Gesù negli scrivi e nei farisei, persone dotte, gente educata fin dall'infanzia nelle scritture, note innanzitutto questa frattura tra la dottrina e la vita. E Gesù teme questo grosso pericolo per i suoi discepoli e per noi oggi la frattura. C'è un oiato terribile tra quello che uno dice e tra quello che uno vive. Ecco, ritorno a qui ciò che Gesù ha detto anche nel discorso della montagna. Ricordate, prima di quell'ultima grande parabola della casa sulla roccia e la casa sulla sabbia, dice, non chiunque mi dice, signore, signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che realizza, che fa, c'è il verbo fare, poi ei, colui che fa la volontà del Padre mio. C'è gente che ha sempre Dio in bocca, parla, parla, parla sempre di Dio, ma lo vive? Lo accoglie nella propria vita? Ecco, l'ammonimento è proprio quello che mi dicevo, dicono ma non fanno. È il versetto 3 del nostro capitolo 23 di oggi. Ma non solo, diciamo, sono incoerenti, ma il secondo grave errore è questo abuso di potere. Perché che cosa fanno? Scaricano sulla povera gente una massa enorme di precetti che loro stessi evitano e in questo modo portano al legalismo religioso. Domenica scorso vedevamo addirittura i comandamenti sono diventati 613, una marea. La differenza poi tra quelli pesanti e quelli leggeri, una casistica davvero incredibile. Mentre Dio dà poche regole. E Gesù domenica ce l'ha detto, i due carderi sono ama Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e cambia il testo dello scema mettendo anche la mente. Perché la nostra è anche una scelta di intelligenza della fede, diceva il grande Benedetto XVI. Quindi, notate. E poi l'altro è dal Levitico 19-18. Ama il prossimo tuo come te stessa. Questi due cardini aprono la porta del regno. Ma la terza deficienza, il terzo errore di queste guide è soprattutto un'appariscenza dei costumi, la vanagloria, volere apparire. Tutte le loro opere le fanno per essere abbinati dagli uomini. Io scherzando, dico sempre, hanno la logica della miralanza. Tanti anni fa, quando io ero bambino, ricordo che la mia buona mamma raccoglieva i punti su questa ditta miralanza, poi completava un album e quando io ero a Napoli, studiavo in Napoli, andavo alla Galleria Umberta a raccogliere e a prendere i doni per i punti raccolti. Beh, quella è una cosa bella, chissà quante massai l'hanno fatto. Ma c'è gente invece che vuole raccogliere punti per fare carriera, per mettersi a di sopra degli altri, non perché si curano del popolo di Dio. Vogliono fare carriera, una parrocchia più grande, una diocesi più grande, vogliono apparire nella parrocchia come le persone indispensabili. Guardate che veramente queste tre grandi deficienze sono anche per noi oggi. Cerchiamo a volte l'abitazione e l'approvazione quotidiana, il compiacimento, frutto di manifestazioni esterne, invece di prendere da Gesù perché il suo gioco è leggero, ricordate, è dolce, dobbiamo imparare da lui che è mite e umile di cuore. Che cosa annunciano queste tre gravi ostentazioni religiose? Portano alla corsa al prestigio, alla ricerca degli apprezzamenti, degli applausi degli altri. Poi tutto passa, passa la scena di questo mondo. Ecco allora che Gesù dice allargano i filatteri. I filatteri del termine greco significa la custodia, che traduce i tefillim, che significa anche preghiera. Erano delle piccole scatolette che si mettevano sul braccio o sul capo per ricordare, come diceva Esodo al capitolo 13, per ricordare piccoli brani della Torah e quindi il termine è interessante, potrebbe significare come se volessero apparire come ancora più religiosi. C'è gente che ostenta dei crocifissi enormi o mette continui i rosari al collo, ma il problema è vivere il Vangelo, altrimenti la croce che uno porta non diventa più il segno. Attenzione, è un segno, è la tua vita che devi dire. Tu devi diventare, c'è la domenica scorsa il Vangelo, una parola vivente. Poi allungano le frange. Le frange erano dei fiocchi, quattro fiocchi, un cordone viola porpora, che venivano legati ai bordi della veste. Era un simbolo che evocava i comandamenti. Ne parla il capitolo 15 del libro dei numeri. In questo modo, allungando quelle frange, credono di poter essere più visibili, più ammirate. Sono guide cieche. Soprattutto cercano i titoli d'onore. Si fanno chiamare rabbi. Rabbi significa mio grande, mio signore. È l'equivalente di oggi di buon signore, di eccellenza. Noi non siamo ancora riusciti nella Chiesa a eliminare queste diciture. Proprio sono sconvedenti. Nel mondo civile non esiste più questo titolo di eccellenza, eminenza, buon signore. Attenzione a creare, come dice Barco 7, leggi fatte dagli uomini. Attenzione, il Vangelo non ama questi termini. Pensate che nel Vangelo di Matteo il titolo mio grande, rabbi, lo usa Giude Iscariota per Gesù. È indicativo. Gesù invece cosa insegna? Insegna che dobbiamo rifiutare i titoli come segni di onore. Dobbiamo evitare il dominio paternalistico. È da una settimana che è terminato il sinodo. Ci sono state molte aperture. Ma facciamo ancora fatica a capire le cose più pratiche, più normali. Noi abbiamo una grande identità di genere, ma attenzione, abbiamo una parità di genere. Le donne valgono quanto gli uomini. Noi siamo fatti della stessa carde. Anche le stesse vocazioni, fratelle e sorelle mie, sono diversi servizi. Dobbiamo rispettarci delle competenze singole, ma siamo al servizio gli uni degli altri. Guai quando una vocazione diventa il ruolo, diventa il dominio paternalistico. È la pratica di voler dominare sugli altri con la propria vocazione. È chiaro che Matteo parla alla sua comunità, ma sta parlando anche a noi. Lo Spirito ci dice che c'è il rischio anche per noi di diventare ipocriti. Critichiamo i farisei, ma poi facciamo peggio di loro. Quindi attenzione che queste parole sono rivolte a me e a voi oggi, perché incombe su di noi tutti davvero questa parola così forte a tentazione di predicare, ma di non vivere. Ricordate il grande Francesco d'Assisi diede il permesso ad Antonio, che era un teologo, uno studioso, poi è un padre della Chiesa, di poter insegnare a patto che insegnasse ciò che viveva. Il Vangelo va vissuto e poi predicato. Ecco quello che ha fatto Gesù. Gesù prima ha vissuto e poi ha insegnato. Invece molte guide di ieri e di oggi impongono fardelli sulla gente. Invece di aiutare le fragilità e il peccato degli uomini, Gesù è venuto apposta. Lo stile di Gesù deve diventare il nostro. Per evitare la doppiezza nel parlare, l'incoerenza della vita, essere pronti a dire e poi mancare nel mettere in pratica, evitare la tentazione dell'apparenza. Noi dobbiamo essere discepoli, imparando da Gesù un mite umile di cuore, crescendo davanti al Padre nel segreto della nostra anima, sfuggendo gli applausi della gente, le gratificazioni di questo mondo. Fratelli e sorelle mie, davvero è beato chi arricchisce davanti a Dio ogni giorno. Beato chi fa della propria vita un servizio, direi, limpido, limpidissimo, verso i fratelli e le sorelle che incontro. Notate che nella comunità cristiana, nella chiesa di cui siamo parte tutti, se siamo figli di quel Padre, dobbiamo essere liberati dallo Spirito. Dobbiamo evitare anche un certo linguaggio superiore, inferiore. Dobbiamo, come San Francesco, purificare anche le parole, perché le parole indicano uno stile di vita. Nessuno è superiore, nessuno è inferiore. Siamo fratelli e sorelle. Con questo non viene eliminato il ruolo, il servizio dell'autorità, il ministero della guida, del maestro, ma ogni vocazione ha un suo magistero. Anche i papà e le mamme, anche i mariti e le mogli hanno un magistero da poterci consegnare, perché noi che siamo preti non viviamo la loro condizione. Ecco, la logica della croce diventa davvero la suprema rivelazione del Vangelo. Ha ragione quando Papa Francesco, qui cita certamente Efesino al capitolo 4, dice che non esiste una piramide con l'appunto, ma una piramide rovesciata. Sotto c'è il Papa, i vescovi, i cardinali, i sacerdoti. Noi dobbiamo portare sulle spalle il popolo di Dio. Dobbiamo prendercene carico. Dobbiamo ricordare le parole dell'Apostolo Giacomo, quando al capitolo 3, proprio all'inizio, dice non siate in molti a farvi maestri, non vi fate maestri. Cristo è l'unico didascalos, dice Matteo, l'unico maestro. Lui è l'unico, il vero maestro, il formatore di tutti quanti noi. Ecco perché Gesù dice nell'ultima espressione chi si innalzerà sarà abbassato e chiunque si abbasserà sarà innalzato. Vedete, è quello che dobbiamo fare. Mettiti all'ultimo posto, non voler apparire. Metti a disposizione i carismi e il ministero che Dio ti ha dato. Ma soprattutto non gonfiarti di orgoglio. Ecco perché il Salmo 131, Salmo meraviglioso, oggi la Chiesa ce lo consegna, proprio nel secondo versetto dopo il titolo. Signore, il mio cuore non si inorgoglisce, nei miei occhi sono alteri, non sono andato in cerca di cose grandi, è meraviglia che mi sovecchiano e che poi sono esagerate. sia questo davvero, amiche e amici carissimi, il programma di vita che oggi la parola ci consegna. Buona Pasqua della settimana. Shalom. Grazie. Sei qui davanti a me, il mio Signore. Sei qui davanti a me. Nella tua grazia trovo la mia gioia. Io lo do, ringrazio e credo per te. Il mondo ritorni a vivere in te.